Ne è rimasto in vita solo uno. Con il decesso avvenuto nei giorni scorsi all'età di 96 anni, di uno degli storici dirigenti dell'ex Montefibre di Verbania, resta solo un superstite tra gli imputati originari del primo processo per i morti e malati di amianto nello stabilimento chimico di Viale Azzari chiuso a inizio anni 80. Sono trascorsi quasi 20 anni da quando il sostituto procuratore di Verbania Nicola Mezzina ha iniziato a indagare sulle denunce ricevute. Gioielleria Rossi, il nuovo negozio in via Briona a Domodossola.